Allora, buongiorno, sono Lorenzo Donati e faccio il giornalista e vi consiglio tre libri perché penso che parlino in maniera abbastanza diretta dei nostri giorni. Allora, partirei da William Gibson, Neuromante, che è un'anticipazione del mondo contemporaneo e delle reti, è una specie di visione distopica, cyberpunk. Poi passerei a The Circle di Dave Eggers, che invece è oggi al 100% e i social media, i Facebook e i company. E poi arriverei a un saggio invece che ha più un taglio scientifico, diciamo così, anche se è simpatico, che si chiama Il mondo senza di noi, di Alan Weissman, che immagina cosa succederebbe se improvvisamente per un motivo non spiegato, un uomo scomparisse all'improvviso. E una delle cose che viene detta è che dopo un mese New York diventerebbe Venezia.